Quando si è chiuso a settembre un hub vaccinale che funzionava senza avere una soluzione alternativa che non c'è stata per mesi, sinceramente non si è fatta una scelta idonea ai bisogni della città, dopodiché si è scelta una soluzione obiettivamente inadeguata, quale quella della stazione Pescara Porta Nuova, con un hub che è chiuso nei festivi, che funziona per sole 9 ore al giorno, il che ovviamente mostra una inadeguatezza rispetto alla proliferata diffusione della pandemia e anche al bisogno dei cittadini che vogliono avere la somministrazione della terza dose per la loro salute, per garantire la salute degli altri e anche per rispettare le norme che il Governo ha emanato. Quindi una inadeguatezza evidente nella campagna vaccinale. Il Comune vuole aprire un secondo hub vaccinale, lo vuole fare nel cosiddetto Palazzo Fucsas? Sì, anche lì dove vogliamo adesso vogliamo vedere le carte, perché noi ovviamente all'opposizione non sappiamo esattamente quali sono i termini di questo accordo, come si vogliono organizzare. Il 31 dicembre il Presidente della Regione Marsiglio fa un'ordinanza con cui prevede che la scuola sarebbe riaperta il 10 e che il 7, l'8 e il 9 sarebbe dovuto fare uno screening adeguato. Questo non è avvenuto a Pescara, anzi inizialmente il Comune di Pescara d'accordo con l'Aster pensava di fare lo screening delle scuole superiori solo nella giornata di oggi, successivamente si è provveduto a farlo partire da sabato, quindi si è perduto un giorno, si sono concentrate tutte le scuole, tutti gli studenti in pochi punti, si sono formate delle file molto lunghe e tutto questo ha vanificato lo spirito. Inoltre c'è il fatto, veramente singolare, che nella città di Pescara non è stato aperto lo screening al personale docente, ai collaboratori scolastici, cioè a tutti coloro che lavorano nella scuola. Come gruppo consigliare in Comune del Partito Democratico, appunto siete pronti anche a un consiglio straordinario per capire quali sono state le interruzioni così di lavoro del pronto soccorso di Pescara? Noi adesso vorremmo chiedere una convocazione di un consiglio comunale straordinario per fare il punto sul funzionamento del pronto soccorso che si è fermato per ben due volte, per 48 ore, non abbia il personale idoneo, non sia in grado di far fronte a questa emergenza. Vogliamo comprendere quali sono le ragioni, perché non si può buttare la croce addosso ai medici che lì lavorano. Noi riteniamo che ci siano dei forti errori organizzativi da parte dell'asga.